Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. I mercati delle criptovalute stanno tentando un rimbalzo, mentre ancora grande difficoltà sui mercati old per quanto riguarda il crash dovuto al, diciamo, tra virgolette virus. E vedremo poi quello che succederà, perché questa settimana sarà chiave anche per i mercati old. I mercati delle cripto hanno subito questa parte ribassista, sì, ma molto di meno rispetto a quello che è successo nei mercati old, ragazzi. Un pochino l'hanno subita, però già questo vi fa capire questa situazione di differenza fra il mercato della criptovalute e il mercato old, ragazzi. Molti parlano di bene rifugio, il bitcoin è un bene rifugio come il gold. Ragazzi, io non la penso così, penso che i mercati delle criptovalute siano completamente a sé, siano delle cose nuove, diverse, il mercato ancora deve capire da che parte stare. Quindi su questa cosa farò un video a tal riguardo, mentre oggi andiamo a ragionare su quella che è l'analisi del mercato della criptovalute, perché il tempo stringe, ragazzi, e questo video potrei intitolarlo così. Il tempo stringe, il mercato del criptovalute in generale, ma bitcoin soprattutto, che poi il re è la guida e il faro è quello che indica dove andare, deve indicarci la strada in questa settimana e nella prossima per capire appunto quello che succederà. Nella giornata di sabato, ragazzi, ho fatto un super webinar con la mia Academy Premium, dove ho indicato tutto quello che è la mia view per quanto riguarda l'analisi di lungo periodo di bitcoin, quindi da qui fino alla fine dell'anno, in sostanza indicando alcuni scenari possibili. Pian piano appunto lì ne parlerò anche sul canale YouTube, durante appunto lo svolgimento dei corsi, dei prezzi che vanno su e giù. Per chi volesse invece ovviamente subito avere una idea generale, c'è il link in descrizione relativamente alla nostra Academy Premium, dove facciamo una serie di cose estremamente volute, ragazzi, per trader estremamente voluti, molto belli. Però oggi vi parlo appunto di quello che è uno di questi scenari, un pezzo di uno di questi scenari, cioè quello relativo al fatto che i mercati debbano iniziare un nuovo ciclo mensile entro poco, e se questo ciclo mensile non avrà la forza di andare a toccare alcuni determinati livelli di resistenza, allora un po' cambiano delle cose. Quindi ragazzi, andiamo sui grafici senza perderci, e poi insomma ragioniamo direttamente sul grafico per farvi vedere quella che è l'attuale situazione. Io sono in partenza, ragazzi, quindi vi saluto da qui direttamente, e vi chiedo anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di condividere questi video dove lo ritenete opportuno. Ragazzi, lasciatemi un mi piace. A proposito, la mia scommessa sullo scorso video è stata persa da parte mia, vinta da parte vostra. Abbiamo superato i 300 mi piace sul precedente video, quindi ragazzi, come promesso farò un'analisi di, diciamo, tecnica e ciclica relativamente ad uno titolo del mercato hold per far capire appunto come si ragiona anche in quel settore, proprio in questa fase di crash. Quindi ne prendiamo uno, ne ho tre o quattro in lista, e vedremo un po' quale sceglierò, ma se volete darmi anche qualche consiglio su questo titolo da prendere, perché no, scrivetelo nei commenti anche di questo video, ragazzi. Bene, noi ci rivediamo anche in settimana, poi col prossimo video vi lascio ai grafici, e nulla che la forza sia con noi, sempre. Ciao! Ed eccoci qui davanti al grafico, ragazzi, allora, una giornata di nimbalzo per quanto riguarda i mercati della criptovalute, ma anche per quanto riguarda i mercati hold americani, ma soltanto in quest'ultima parte della giornata. Guardiamo il grafico di Bitcoin, Ethereum, Binance, per vedere che cosa sta succedendo. E' iniziato meno questa nuova fase di ciclo mensile, che stavamo aspettando già da un po', ragazzi. Allora, intanto, grafico di Bitcoin davanti a noi. Vi faccio vedere l'RSI per farvi vedere come, in ogni caso, è puntato all'intorno della sua area di non neutrale, quindi va benissimo, ragazzi. Potremmo anche assistere ad un RSI che magari se ne va in una zona di per comprato, in questo caso indicando un trend che dovrà andare a rompere i massimi precedenti. Lo vedremo tra poco sul grafico di Bitcoin questa idea. Allora, prima analisi, come sempre, quella tecnica di supporti resistenze, poi l'analisi ciclica. Per quanto riguarda analisi di supporto, quello che ha tenuto in questo momento, e ha dato vita a questo mini rimbalzo della giornata di oggi, è il supporto a 8.500, un supporto non fortissimo, ragazzi, che però in questo momento ha tenuto, ha tenuto, in realtà, insomma, questo minimo precedente, che è il minimo di 8.246, qui siamo arrivati a 8.455, siamo là, ragazzi, quindi questa fase qui ha tenuto. In realtà sotto questo minimo si configurava un ciclo mensile ribassista e la cosa, insomma, non sarebbe stata buona. In realtà, dal punto di vista dell'analisi tecnica, in questo momento il mercato di Bitcoin non è fuori pericolo, perché dobbiamo guardare una serie di problematiche. In primis questo supporto a 9.000, che adesso è una resistenza, in questo momento, quindi lo possiamo anche scrivere, speriamo che questa resistenza di medio, ragazzi, a questo punto duri veramente poco. La stessa cosa qui, i 9.500 in questo momento sono una resistenza, anche in questo caso probabilmente, speriamo duri poco, che magari il mercato vada a romperla. L'esistenza vera in questo momento, ragazzi, sono sicuramente 9.500 e 10.500, questa è fortissima, ma poi abbiamo anche la media, vedete, qui c'è la media 50 periodi, 9.200, quindi nulla vieta che magari il mercato possa tentare, a giornate di domani, di posizionarsi qui. Già questo non sarebbe male come tentativo di rimbalzo, e vi faccio capire subito anche il perché, perché essenzialmente, come vedete, nelle precedenti fasi di recupero di questo trend ribassista di brevissimo, che è dato in sostanza da questa fase qui, vedete, questo è un trend di brevissimo ribassista, tutte le giornate di recupero sono state annullate dal giorno precedente, quindi dalla candela precedente, qui abbiamo l'annullamento il giorno dopo, qui abbiamo l'annullamento il giorno dopo, vedete, dalla candela. Quindi ancora una volta, domani sarà una giornata importante, domani che coincide anche con la famosa giornata di martedì, la più movimentata, se vi ricordate, qualcuno di voi se lo ricorda, il mio video sugli orari d'oro per fare trading sul mercato di bitcoin, la giornata di martedì e mercoledì sono belle, diciamo, toste da un punto di vista di volatilità e di volumi, perciò tutto si gioca domani probabilmente, ragazzi. Il vero livello da superare in questa prima fase è la resistenza 9000, posizionarsi qui, in pratica, in questa zona qui, ma poi il mercato dovrà invertire questo trend che possiamo anche disegnare unendo questi massimi, ragazzi, che vedete è abbastanza lontanuccio, quindi in questo momento questa fase di recupero noi la possiamo solo identificare come una fase di rimbalzo, se il mercato non si posiziona al di sopra dei 9500 e se ne va qui in quest'area, cioè al ridosso della super resistenza, che è quella 10500, resistenza importantissima, ma la vedremo anche nei prossimi giorni. Dal punto di vista di analisi ciclica, invece, arrivano le notizie positive, secondo me le migliori sono dovute all'analisi ciclica, perché questa fase di ribasso coincide con la chiusura del ciclo mensile, che doveva avvenire esattamente in concomitanza con la close del mese. Vedete, 35 giorni come i precedenti, erano 37, quindi ci stiamo. C'è stato anche un doppio minimo, quindi io considero il primo, ma in realtà si potrebbe anche fare 37 con il doppio minimo di ieri, che era 84,60 prezzi Bitfinex contro 34,55, ragazzi, è un doppio minimo, ovviamente. Ma è rilevante, insomma, a questo punto non ha nessun senso, quindi in pratica, ragazzi, questa fase ciclica indicherebbe una chiusura avvenuta di due cicli mensili rialzisti entrambi, perché il primo ha un rialzo abbastanza evidente, con questo minimo qui, il secondo ha un rialzo un po' meno evidente, con questo minimo qui, che è non un doppio minimo, leggermente rialzista, ma comunque rialzista. Mi aspettavo una forza maggiore nella parte finale del mese di febbraio, non è avvenuta, ma in linea di massima, ragazzi, il mercato dovrà tentare il recupero. Probabilmente qui si giocherà la partita, questa era la prima view di cui vi ho parlato nell'introduzione del video, perché noi dobbiamo incominciare a ragionare su questo nuovo movimento, vediamo domani e dopodomani intanto per avere conferme, però questo nuovo movimento nei mercati delle criptovalute dovrà avere un atteggiamento forte, ragazzi, da andare a rompere questa resistenza qui. Se questo non avverrà, allora si configurano due possibilità diverse, quindi di trading range all'interno di questa fascia di congestione, oppure addirittura uno scenario di bassista. Entrambi i scenari che ho già analizzato in un webinar, un super webinar che ho fatto per l'Academy Premium, ragazzi, però li vedremo comunque sul canale man mano che si verificheranno queste situazioni. Al momento mi sento di abbracciare l'idea di una chiusura del mensile, quindi di un tentativo di recupero. In questo momento non possiamo dire che il mensile nuovo di Bitcoin sia iniziato, il ciclo nuovo non lo possiamo dire perché ancora è troppo presto, però già magari se andiamo a ridosso della resistenza 9500 sarà più comune, insomma, e con i tempi però ci siamo, ragazzi, quindi i tempi sono maturi per questa fase di ripresa. Io stesso ho fatto una piccola operazione di trading, di ingresso intorno agli 8.650-8.700, non so, ragazzi, sinceramente, se andrà a buon fine questa operazione, al momento lo stop è molto largo, lo aggiungerò solo e unicamente nel momento in cui il mercato arriverà intorno a quest'area, poi vedremo. Chiaramente non sono consigli finanziari, lo sapete, andiamo a vedere Ethereum e anche Ethereum fa lo stesso tipo di movimento di Bitcoin, ancora una volta RSI non ha nessun significato, è in area di neutrale, quindi va benissimo un recupero. Attenzione, l'RSI di Ethereum potrebbe indicare poi un'eventuale divergenza nel momento in cui questo recupero non sarà forte come il precedente, però ragazzi, sopra l'ipercomprato, insomma, come ho spesso detto in alcuni miei video, diciamo, ha poco senso guardare queste cose. Andiamo a vedere dal punto di vista di analisi tecnica. Ethereum non ha retto in realtà il supporto a 225, soltanto nella giornata, in queste due giornate, vedete, perché poi nelle precedenti è sempre stato a ridosso di questo livello di supporto. Come sempre le altcoin è difficile di segnare un livello stabile, perché poi oscillano all'intorno di questo livello, ragazzi, qui siamo stati tra il supporto a 225 e la media mobile a 50 periodi, che poi si è aggiornata, ma in linea di massima, ragazzi, intorno ai 200-225. Lo so che sono 10 punti percentuali di oscillazioni, ma con Ethereum, ragazzi, non è che è possibile fare diversamente. Da un punto di vista di resistenza attuale, il mercato, quindi Ethereum, ha davanti a sé questo livello qui, che sono 250 circa, quindi più o meno potrebbe arrivarci, io penso che, insomma, se è partito un nuovo mensile sicuramente sì, poi bisognerà vedere. Al di sopra di 250 c'è la resistenza super 280, che è quella poi da battere come Bitcoin per indicare la ripresa di un trend. Soltanto, ragazzi, un atteggiamento di questo tipo sancirebbe un trend delineato completamente rialzista e darebbe nuova linfa ai mercati. Questo ribasso è stato molto pronunciato, quindi i mercati avranno da lavorare, hanno filo da torcere perché dovranno andare a toccare questo livello di resistenza. Non che sia impossibile per mercati come quelli delle crypto, ragazzi, perché non ci vuole niente a fare questi movimenti, insomma, li fanno in mezz'ora. Però, ovviamente, ragazzi, non è stato un ribassino, come mi aspettavo io, magari una cosa più semplice, ma è stata abbastanza importante, per cui dovremmo poi andare a guardare effettivamente se questa fase di, magari, rimbalzo possa essere tale da andare a rompere il precedente massimo, che è quello fondamentale per mantenere un trend rialzista. Da un punto di vista di analisi ciclica, anche qui, vedete, ragazzi, 34 giorni, quindi ciclicamente ci siamo. È chiaro che un mensile nuovo possiamo indicarlo se, insomma, il Ethereum avrà la forza, magari, di spostarsi almeno in fascia da 250, quindi ci manca un altro 10%, ragazzi, questo in totale. Oggi sta facendo più 6,5, magari se lo fa anche domani, siamo lì. Quindi abbiamo questo nuovo ciclo mensile. Quindi dovremmo essere in questa nuova fase. Il mercato non mi sembra fortissimo, però, mai dire mai, vedremo domani e dopodomani, che sono, secondo me, giornate molto importanti, in questo caso per le criptovalute. Stesso discorso per quanto riguarda Binance, a punto di vista di analisi tecnica, anche qui RSI non ci dà indicazioni, anzi può ritornare tranquillamente a salire. Pessima la fase di bassista, forse la peggiore di queste altcoin che abbiamo visto, di queste cripto che stiamo vedendo, la peggiore è quella di Binance. Tentativo due giorni fa di rompere questa media mobile non c'è riuscita, adesso è dentro questa fase di recupero. Insomma, Binance deve dimostrare di avere i muscoli, perché intanto il supporto a 19 è a retto, vedete, questa linea lilla. Però il mercato deve a questo punto ritornare a salire sopra il livello di 22, che precedentemente indicato come supporto, adesso diventa una resistenza, di breve lo scriviamo. Però questo, diciamo, è il primo livello che Binance deve superare, dopodiché dovrà andare immediatamente al testing di questa area qui, 25-26 dollari, ragazzi. Quanta strada c'è? Ce n'è abbastanza, perché Binance è sceso veramente, sai, è sceso proprio, proprio tanto, ragazzi. Non è negativo, diciamo, l'atteggiamento, perché nel complesso, se guardiamo magari nel medio periodo, ci rendiamo conto anche di questa struttura, comunque come una fase di, tecnicamente, accumulazione. Però questo break, ragazzi, è stato inficiato, perché vedete, il pullback non ha retto del livello di 22, ma il mercato è andato sotto. Adesso vediamo, quindi, o è un fake break questo qui, e il mercato dovrà riposizionarsi al di sopra di 22, per renderlo, diciamo, un livello magari di supporto nuovamente, e oppure, ragazzi, sarà un pull up dal basso, e, insomma, negativo, e quindi bisognerà vedere. Quindi massima allerta su Binance in questo momento. Ciclicamente siamo nella stessa storia di Bitcoin, va benissimo questa fase. Io ho paura, qua vi posso magari indicare magari una fase ciclica, un'alternativa ciclica, ho paura anche per Binance, un ciclo eternario, che possa essere indicativo di un atteggiamento del genere, che vada quindi a confluire in un mese nuovo, che faccia questa figura qui, ragazzi. Quindi a questo punto avremo tre mesi uniti da una figura ternaria di questo tipo. Nulla vieta al mercato di fare una cosa del genere, quindi un massimo non superiore al precedente. Quindi questo lo vedremo poi con calma, ragazzi, se i mercati abbracceranno questo tipo di logica. Al momento il rimbalzo c'è, non è assolutamente forte, ritorniamo su Bitcoin, lo possiamo vedere, quindi spetta le giornate di domani e dopodomani, mostrare i muscoli, mostrare i denti. L'unica cosa che possiamo fare è stare dietro al mercato in questa fase. Il mercato ha delle fasi di rimbalzo, l'ha indicata, ma non è una fase forte, quindi potrebbe ritracciare. Soprattutto Bitcoin, ragazzi, minimo deve superare 9000 dollari. Questi sono i livelli da tenere sotto controllo. in questo momento. Bene, per oggi è tutto, ragazzi, noi ci riaggiorniamo in settimana con il prossimo video. Come sempre io vi ringrazio, mettete mi piace se volete aiutare il canale e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti, ci vediamo mercoledì.